Musica Ciao a tutti con l'Asterisk per essere più inclusive Il Mr. Olimpia è finito, Adi Chupan è il nuovo Mr. Olimpia Il Natale del Male si avvicina E utilizzo questo spezzone di video per precisare alcune cose Perché secondo me molte persone hanno frainteso le mie parole Essendo un po' analfabete funzionali Fin dall'alba dei tempi del mio canale Sono sempre stato un detrattore diciamo di Rami Anche quando nel 2017 avevo difeso la vittoria di Philit Tutte le polemiche sulla Bubblegat Bonanza Avevo fatto anche un video che si chiama, mi pare, anche Big Rami alla Bubblegat Quindi non sono mai stato un fan di Big Rami Ne ho sempre parlato, non dico male, però non tanto bene Ho sempre evidenziato i suoi punti deboli Le gambe non mi sono mai piaciute Le proporzioni, il buco nella schiena per me è una cosa orrenda Poi negli anni ho sempre sostenuto che sia peggiorato Dal 2013 che reputa ancora la sua miglior condizione Ad oggi penso che sia via via peggiorato Venendo al fulcro di questo mio discorso Che non è un mea culpa, che non è una giustificazione Giusto una spiegazione perché io ci tengo ad essere chiaro Ed essere coerente Visto che alcuni mi hanno accusato di non essere coerente Ma non penso che sia questo il caso Anche perché in genere cerco di essere il più chiaro possibile E mi spiego anche quando sono frainteso diciamo Quindi quando ritorno su certi concetti Il motivo è questo, per essere chiaro E per quanto riguarda Rami Io ho detto che nel pre-judging era migliorato di condizione per definizione Si intende Rispetto al pre-judging del 2021 Non ho mai detto che fosse migliorato a livello di muscoli A livello di forme Che la sua forma fosse migliore in generale La mia considerazione era che la sua condizione A livello di definizione fosse migliorata Rispetto al 2021 Punto Poi per quanto riguarda la vittoria di Ciupan È ovviamente meritatissima La condivido a pieno E se vi ricorderete più volte Ho detto che secondo me avrebbe meritato di vincere anche anni fa La mia scelta di Rami al primo posto Era data dalla politica Perché in genere le cose funzionano in un certo modo Quindi i miei pronostici sono dati anche da Un tipo di valutazione da parte dei giudici Che in passato ha sempre preso in considerazione questioni politiche Il discorso era solo questo Non perché io preferissi Big Rami Comunque venendo al comparison Front double bicep Secondo me è salto all'occhio Samson Dauda e Derek Lansford per la forma Il problema di Derek sono le gambe che sono un po' piccole Mi piace molto anche Adi ovviamente Brandon è migliorato per quanto riguarda la definizione Nelle finali rispetto al pre-judging Però le gambe sono sempre troppo indietro Rami secondo me fa una buona posa Con un accenno di vacuum Le braccia di Rami sono rimpicciolite molto Negli anni Purtroppo La definizione del video è quella che Nonostante si veda bene il background Loro in prima fila non si notano molto bene Mi piace anche abbastanza Nick Walker Però devo dire che il colpo d'occhio Ce l'hanno secondo me Samson Dauda e Derek Lansford Derek è gambe un po' troppo piccole Samson non molto definito Forse tra questi era quello meno definito Guardando anche le foto Perché da questo video non è che si capisca molto Visto che sono presi un po' da lontano Tutto sommato penso che sia una buona posa Un po' per tutti Do avvantaggiati come detto Derek e Samson per il colpo d'occhio Venendo all'hack spread Questa secondo me è una buona posa anche per Rami Quando non contrai l'addome Perché quando contrai l'addome Si butta un po' in avanti E perde molto Brandon ha un pochettino di distensione Mi piace molto Samson ovviamente Cioè sembra grande quanto Rami Anche lui ha lo stomaco Non dico disteso Ma deve controllarlo un filino di più Nick Walker Questa è la sua posa peggiore Mi avrete sentito dirlo mille volte Però non mi piace molto Hadi è bello compatto Mi piace in generale Era il più definito In generale il più completo E ci sta Questa sua vittoria Come detto Mi piace anche Il L'addome di Derek Però secondo me Resta un po' troppo piccolo Di gambe Ha bisogno di lavorare un po' Sulle Sulle gambe Un po' come Brandon Cary Ma il Brandon Cary È anni che sta Avvando sulle gambe Quindi Niente da dire Un'altra cosa su Brandon È che Al pre-judging Non era molto definito È migliorato molto Nelle finali Però comunque Anche per lui Credo che sia Il canto del cigno Venendo Al Side chest Questa è una posa Abbastanza convincente Per Rami Forse la sua miglior posa In generale Qui le gambe Sembrano più definite Di quello che sono Il petto mi piace Mi piace molto Il side chest Di Nick Walker E mi piace molto Anche quello di Di Samson Dauda Credo che Più o meno Tutti quanti Siano riusciti a fare Delle buone pose Non ho visto Delle cafonate Delle schifezze totali A parte Direi il Front last plate Di Nick Walker Oppure L'absentize Di Di Big Rami Tutti hanno fatto Delle pose Abbastanza convincenti E tutte le hanno tenute Abbastanza bene In questo caso Guarda gli appunti Secondo me Anche Brandon Curry Che sembra molto Molto denso Sia nella parte alta Ma anche nella Parte bassa Perché chiaramente Le gambe sono schiacciate Mi piace molto La separazione Nelle gambe Di Derek Lansford Viste lateralmente Molto denso Anche Adi Chupan Una cosa di Derek Era Molto definito Nella parte bassa Però Nella parte alta Frontale Soprattutto nel petto Nelle braccia Non aveva portato Tutta questa Definizione Come nella parte bassa Venendo alle pose Importanti Cioè Quelle di schiena Back double bicep Quante volte mi avrete sentito dire Che Rami ha un buco Nella schiena Cioè Non è che lo sto dicendo adesso Perché Rami ha perso Guardate i video Guardate i video che ho fatto Su Rami Negli anni E capirete che non sono Un fanboy Cioè Non gli sto Leccando le palle Solo perché ha perso E io avevo detto Che avrebbe vinto Posa Mediocre per Rami Perché ha questo buco Una Ottima posa Per Adi Chupan Ma una posa Ultra Ottima Che non si può dire Per Derek Lansford Che di schiena Forse A livello di Back double bicep È il migliore Alla schiena Più completa Secondo me Ha La definizione Superiore Tra tutti Nei glutei E Nelle gambe Da dietro Secondo me Forse il fatto Che avesse Meno massa Degli altri Nelle gambe Gli ha consentito Di essere un po' più Definito Ottima posa Anche per Samson Dauda Che comunque Non è molto definito E quindi Si vede Meno roba Buona posa Anche per Nick Walker Mi piace molto Questa posa Di Nick Back double bicep Ottima posa Anche per Addy Chupan Che chiaramente Ha sempre Questo sospetto Di Sintol Nei deltoidi Che non penso Si leverà mai Di dosso Però Ottima posa Anche per lui E anche Una buona posa Per Brandon Kerry Che comunque Secondo me Perde rispetto A un Derek Lansford E anche Addy Chupan Per quanto riguarda Rami Ha questo buco Nella parte bassa Della schiena Che Davvero è Inguardabile Il suo fisico È peggiorato molto Adesso ci sono anche Dei bozzi Nella parte alta Dei glutei Quindi Io non so Quanto Rivedremo Rami A questo punto Che però Nell'Hudspread Guadagna qualcosa Perché è molto Molto Ampio La definizione Nei glutei Sembra migliorata Rispetto a pre-judging Brandon Kerry Secondo me Perde molto Sia perché Non è particolarmente Definito Nonostante fosse Più definito Nel finale Rispetto al Pre-judging Però mi piace Molto Addy Chupan Che è Larghissimo Quando fa il Latspread Mi piace Derek Lansford Che però Non ha un Latspread Nobile come Il back Top Bicep Nick Walker Non mi piace In questo Latspread In passato Mi piaceva di più Quest'anno Mi pare che Non l'abbia fatto Molto bene E infine Mi piace molto Anche Samson Dauda Però il discorso È sempre lo stesso È molto largo È molto grosso Però Non è Abbastanza definito Io penso che Se c'è stato davvero Un cambio della guardia Se i giudici hanno deciso Di mettere da parte La politica Perché Vi do una notizia bomba C'è sempre stata politica Nel bodybuilding E le mie decisioni Di pronostici Tra virgolette Andate anche da quello Se Quest'anno Hanno deciso Di mettere da parte Un po' la politica Penso che vedremo Samson Dauda Ai piani Più alti Prossimamente Side tricep Buona posa Per Rami Nonostante abbia perso Secondo me Di tricipiti Oltre che di braccia In generale Mi piace molto La gamba lateralmente Però le pose laterali Di Rami Sono sempre state Uno dei suoi Punti forti Buona posa Per Brandon Curry Buona posa Un po' per tutti Diciamo Forse la cosa Che mi sorprende Di più Che mi colpisce Di più Sono le gambe Delle clans Viste lateralmente Come detto Non so se sia una questione Di definizione Data da Massa In difetto Diciamo Nelle gambe Perché comunque Le gambe Non è un proporzionato Da parte alta Se Anche lui Avrà più tempo Per lavorare sulle gambe Probabilmente Potremmo parlare Di un futuro Mister Olimpia Non so se Magari L'anno prossimo Sarà ancora Un testa a testa Tra lui E Adi Chupan Però Io penso che Derek Avesse in meno di Adi Definizione In generale E Massa Nelle gambe Perché Derek Nelle pose frontali Nella parte alta Soprattutto nel petto Nelle braccia Non era molto definito Invece Adi Aveva striature Dappertutto Sul petto Definizione Complessiva Superiore Rispetto a Derek E anche rispetto Agli altri Absentize Questa è un'ottima posa Per Adi Forse il migliore Che fa questa posa Perché comunque È una definizione Incredibile Soprattutto a livello Di grandentato E addome Questa cosa L'ho sempre detta Ho sempre sottolineato Il fatto che fosse Molto definito In quella zona È sempre stato Il più definito Anche gli altri anni L'anno scorso Due anni fa E quest'anno Pare aver convinto Finalmente I giudici Ottima posa Anche per Samson Dow Davvero Molto bello Se avesse Un fino Definizione In più Secondo me Sarebbe potuto Arrivare anche Più in alto Però La politica Nel bodybuilding È anche questo Cioè Non far arrivare Più in alto Di un tot Un bodybuilder Cioè Non me le sto inventando Queste cose Queste cose Le dico Basandomi Sull'osservazione Non perché io pensi Che Rami Fosse il bodybuilder Migliore E volessi Vederlo vincere O per quello O per quell'altro Certa cosa Le dico Perché Ho visto Abbastanza edizione Il misto olimpia Da capire che Un bodybuilder Ottimo Non sempre vince Per quanto sia ottimo Quindi Pensate che Adi fosse così diverso Quest'anno All'anno scorso Sicuramente Migliorato Ma non era così diverso Quindi Non è un mea culpa Non sono Giustificazioni Comunque Most muscular Chiaramente Per i fotografi Non è una posa Particolarmente importante Però Fatemi sapere Che ne pensate Di tutte queste Considerazioni Varie ed eventuali E ci sarà davvero Tanto da dire Anche nei prossimi giorni Scrivete anche Che video Vorreste vedere Così Vedo di prepararmi Buona Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.